Cari lettori. Siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di venerdì 21 luglio, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal libro Repo Man di Eric Garcia, il film fantascienza, Repo Man, in onda sul canale Rai 1 alle ore 21 e 25. Dal libro Il profumo di Patrick Susskind il film thriller Profumo Storia di un assassino, in onda sul canale Iris alle ore 21. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Repo Man. La storia è ambientata in un futuro prossimo in cui la multinazionale The Union offre agli individui l'opportunità di ottenere organi meccanici infallibili per migliorare la qualità della vita, ma a fronte di pagamenti per i oggi. Coloro che non possono permettersi i pagamenti diventano soggetti delle visite dei Repo Man, agenti autorizzati a prelevare gli organi meccanici in caso di insolvenza, senza alcuna considerazione per la sopravvivenza delle persone coinvolte. Il protagonista, un recupero organi meccanici di nome Remi, subisce un incidente sul lavoro che lo costringe a ricevere l'impianto di un cuore artificiale. La trama del film Profumo Storia di un assassino. Nella Francia del XVIII secolo, Jean-Baptiste Grenouille è un ragazzo con un olfatto eccezionale, capace di riconoscere gli odori in modo straordinario. Questa abilità lo porta a lavorare per il profumiere Baldini, dove raffina le sue conoscenze e apprende i segreti delle spezie e delle essenze. Tuttavia, con il tempo, l'ossessione di Grenouille per gli odori si trasforma in un chiodo fisso. Desidera catturare e conservare il profumo delle donne per raggiungere l'essenza divina, poche crede che questo possa renderlo un essere perfetto e in grado di possedere il potere dell'amore e dell'attrazione. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Grazie, un caro saluto. Grazie.